Sono 11 destinatari di avviso di conclusione indagini a Brolo per l'ipotesi di diffamazione e danni dell'ex presidente del Consiglio Comunale Nino Ricciardello, in carica tra il 1997 e il 2007. Si tratta del vice sindaco Gaetano Scaffidi Lallaro, del consigliere comunale d'assessore Marisa Briguglio, del presidente del Consiglio Giuseppe Miraglia e dei consiglieri di maggioranza Vincenzo Princiotta, Amedeo Arasi, Valeria Campo, Marica Ricciardo, Marisa Bonina, Antonella Raffaele e Salvatore Gentile. Avviso di garanzie e conclusione indagini anche per la funzionaria comunale grazie a Curasi. La denuncia di Ricciardello riguarda la proposta di rendiconto finanziario per il 2013, approvata in aula nel settembre del 2016. In quella seduta l'assessore al bilancio Scaffidi illustrò la proposta nella quale si parla della rinegoziazione dei mutui operata dal Consiglio Comunale nel 2005 e nel 2006, definita una falsa rinegoziazione che avrebbe creato un danno ingente alle casse comunali. Per tale affermazione è scattata l'accusa di diffamazione per Scaffidi Lallaro, proponente della delibera, e Curasi, responsabile dell'istruttoria, poiché lesiva della reputazione dello stesso Nino Ricciardello, all'epoca presidente del Civico Consesso. I consiglieri comunali risultano invece indagati per aver votato quella proposta. C'è un referto del Revisore dei Conti fatto nel 2015, nel primo mese del 2015, che ha evidenziato un'operazione di estinzione, rinegoziazione mutui fatta fra Cassa Depositi e Prestiti e BNL, che a detta del Revisore, e noi abbiamo riportato in questi atti, ha causato un danno non indifferente per l'ente. Si sono incassate due reversali, infatti una di 5.999.000 e una di 809.000 euro. Quella di 809.000 euro è rimasta nelle casse del lente, non è stata girata a nessuno, e quelle somme sono state utilizzate, secondo noi, in maniera non regolare. Questo c'è scritto in tutti gli atti contabili, compreso quello lì, e questo è quello che noi abbiamo, il Sindaco, denunciato alla Procura della Repubblica di Patti, marzo 2015. Siamo a maggio 2017 e noi, sempre speranzosi, siamo qui in attesa che la Procura ci faccia sapere se eventualmente la nostra denuncia è un falso, oppure abbiamo preso un abbaglio, oppure evidentemente invece c'è stato un danno grave alle casse del lente e quindi ai cittadini di Brolo. Grazie a tutti.